Sì, 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 sì. Raga? Raga, ragazzi, gente! Che facciamo? Si presentiamo? Sì, 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 inizia tu. Buonasera, io sono Aglavia, che in greco significa lo splendore, ma per gli amici sono Grazia. Buonasera, io sono Frosine, che in greco significa lo gioia, ma per gli amici sono Graziella. Buongiorno. Buonasera, cretina. Buonasera, io sono Talia, che in greco vuol dire prosperità. E per gli amici? Non ho amici. E per gli amici? Graziosa. No. Gradita. No. Gradevole. No. E' gratis. Te piacerebbe? Allora, se lei è Grazia, io sono Graziella, te sei? Non lo voglio di come mi chiamo, non mi piace. Non le piace? Io che devo dire, che mi chiamo Grazia come un giornale? E ho Graziella come una bicicletta. Ho capito, ma il mio nome è volgare. Ma che volgare è volgare, che se sei diventata famosa è grazie al nome tuo. E grazie al cazzo. Però mi raccomando, non deve saperlo nessuno. Tranquilla che non lo sa nessuno, non ti preoccupare. Guarda che manco Canova ti era accorto che ti aveva lasciato un pezzo di stai più. Ah no? E poi guarda, se ne stanno tanti come te. Pensa, la gioconda. Quella è Leonardo. L'avere botticelli. Secondo te perché c'ha i capelli lunghi lunghi? E perché? E per coprirsi. Zura! Zura! E ma noi scherano? Che c'entra? Che c'entra? Ah, così per dire. Comunque ragazze, mi devo dare notizioni. Ci vogliono restaurare? Sì! Così posso rifarmi il seno. Io posso rifarmi la bocca, il naso e gli zigomi. No, in realtà ci vengono da una semplice bottarella. Sì! De colore! Una semplice bottarella de colore. Cioè il vostro è un pensiero fisso, state sempre a pensare a quello, eh? E quello che non facciamo? Beh, non facciamo. Non fa. No, ho detto di no. Uffa, ma tu la materia prima ce l'hai? E la rimane. E comunque, tu non uscivi col David? Eh, parliamone. Parliamone. No, perché io col David ci sono uscita, eh. Perché da lontano le prospettive erano buone. Uh-huh. Però poi, a mano che si avvicinava, non si è cambiata. Cioè? Sono rimaste stesse! No! E comunque non puoi giudicare, non siamo nell'epoca adatta di poter giudicare, eh. Io non giudico. Descrivo. Ma... Calma, calma. Perché me stanno a tenere, me stanno a tenere, me stanno a tenere. Ah, Michelangelo, ma su cinque tonnellate di marmo, un kilo in più non ci lo potevi mettere, eh. E te lo dico io qual è il problema. Il problema è che gli scultori sono tutti uomini. Vallo fa una donna e fagli vedere come non c'è un kilo in più. Oddio, il custode, il custode! Luce, luce per favore, un applauso, un applauso grandissimo. Io ho una coppia in mano, eh. Un applauso grandissimo a Orazio Di Giacomo, a Giulia Di Dio e Sofia Di Dio. Loro vengono da Gela, ci hanno proposto questa, le tre grazie, una, vabbè, le tre grazie, due e mezzo. Due e mezzo. Due e mezzo. No, no, comunque sono davvero bravissimi e io do questa coppa a loro, che in poche parole sapete perché sto dando questa coppa. Lo facciamo dire a Orazio, c'hai il microfono, Orazio? Sa, si sente? Sì, perfetto. Tieni, la tengo. Questa è la coppa che abbiamo vinto alle nazionali di Coppa Italia 2021, classificandoci primi proprio con questo sketch nella categoria compagnie piccole B. Ad aprile ci batteremo con tutta l'Europa. Perfetto, un applauso alle tre. Grazie, voglio dire grazie soprattutto al trio che ci ha concesso di portare in scena questo sketch, che sono Ricomincio da Tre. Grazie mille. Grazie a voi ragazzi. Grazie, buona serata. Grazie. Grazie a voi.